Stai pieni, dai, chi un valore alla cultura ca' tieni, come? Sì, si usano in vita, radicati a live e sapi, culli greci e pezzi a fine, uniti in classe e sfide, oggi culli, giacca e pati, di venire, di venire, di questa pietra, Aue, 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 a No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.